Ben ritrovati in Cleros TV, la TV della patrimonialità. Allora il tema di questo incontro di oggi, direi un tema molto importante e di particolare attualità, è quello della previdenza, la questione previdenziale. Sicuramente oramai è un argomento di centrale importanza nell'ambito della consulenza patrimoniale, consulenza patrimoniale che come ben sappiamo è rivolta alla tutela della persona, alla tutela del patrimonio, due elementi che si intrecciano tra di loro e una variabile, direi fondamentale, oramai è quella previdenziale. Allora si tratta di materia particolarmente complessa, per la quale serve sicuramente una preparazione tecnica specifica, un aggiornamento continuo perché la normativa è in continua evoluzione e sicuramente poi professionista preparato che sappia, come dire, ricostruire lo storico dei clienti e soprattutto il futuro, proiettarlo nel futuro. Allora oggi ho il vero piacere di avere con me un ospite diciamo di eccezione, sicuramente super preparato in materia, super esperto in materia, Giuseppe Guttadauro, possiamo dire uno dei massimi esperti a livello nazionale in tema di previdenza. Ben arrivato Giuseppe, grazie di aver partecipato. Grazie a voi. Allora Giuseppe, il tema è un po' questo, sappiamo il tema delicato e ci sono ormai di fronte a noi dei cambiamenti, un'evoluzione sociale che sicuramente va ad influire sul tema previdenziale. Il famoso tema dell'allungamento della vita che se da una parte ci fa piacere noi, i nostri cari, tendenzialmente viviamo, vivremo, questo dicono le statistiche sempre di più, dall'altra parte c'è una diminuzione delle nascite. Quindi se mettiamo insieme i due dati è evidente che c'è qualcosa che non funziona. Quindi un sistema che è oggettivamente già oggi in crisi, no? Oggettivamente. Certo. Allora Giuseppe, secondo te qual è lo scenario che noi dobbiamo immaginare se noi guardiamo avanti, no? Il futuro delle pensioni. Sì, allora come giustamente facevi notare tu, uno tra gli aspetti principali, non l'unico ma sicuramente tra gli aspetti principali che riguarda la sostenibilità del sistema previdenziale è proprio legato al discorso della speranza di vita media, chiamiamola così. Perché? Perché sostanzialmente con l'introduzione soprattutto del sistema contributivo, l'Inps cosa fa? L'Inps, l'Inps è tutti gli enti di previdenza. Non fa nient'altro che prendere quanto accumulato, quindi versato come contributi da parte del cliente e spalmarlo sulla cosiddetta vita media. Quindi praticamente va a restituire all'assicurato quanto lui ha versato durante la vita lavorativa spalmato, ripeto, sulla speranza di vita media. È evidente che se la vita media si allunga, l'importo della singola pensione diminuisce e si contrae. Questo è il primo aspetto. Un primo aspetto che incide immediatamente. Mentre l'altro aspetto, quella della diminuzione delle nascite, è sicuramente importante perché se ci sono meno nascite avremo meno lavoratori. Meno lavoratori significa meno entrate contributive. Meno pagatori, si sente? No, corretto. Meno pagatori, purtroppo. Meno pagatori. Meno pagatori, meno entrate contributive e quindi il sistema regge sempre di meno. Però questo è un aspetto che inciderà in futuro perché le minori nascite di oggi significa minori lavoratori fra 25, 30 o 35 anni. Mentre l'aspetto preoccupante oggi è proprio l'allungamento della vita media. Allora, tu parlavi prima di gap. Gap è sostanzialmente la differenza. Esatto. Quello che noto io e quello che faccio poi notare ai miei clienti quando ovviamente incontro il cliente che oramai, tra i vari aspetti di una consulenza patrimoniale, bisogna farci una chiacchierata sulla previdenza perché altrimenti possiamo dare mille soluzioni ottimali per il patrimonio, ma se poi ti trovi in certe difficoltà, a un certo punto della vita è difficile farci conti. A un certo punto diventa difficile. Ecco, il punto è proprio questo, questo gap diciamo dal punto di vista previdenziale. E la questione secondo me è importante anche questa. Cioè, sappiamo che c'è il problema. Cosa farà la previdenza pubblica e cosa faranno le casse private, no? Tutti i professionisti che sono in Italia. Sì, sì, sicuramente. Allora, io credo che la questione del gap e quindi questo problema di andare a integrare la scopertura, chiamiamola così, dell'importo pensionistico rispetto all'ultimo reddito o retribuzione, è direttamente collegato alla sostenibilità ovviamente del sistema pensionistico. Cerco di spiegarmi. Noi abbiamo una spesa previdenziale annua che si aggira intorno ai 300 miliardi di euro, di cui buona parte destinati alla spesa previdenziale e una parte destinati alla spesa assistenziale. Che cosa succede? Succede innanzitutto, è bene sapere che allo Stato ritornano circa 100 miliardi, quindi un terzo di questa spesa allo Stato gli ritorna sotto forma di fiscalità. Quindi vuol dire che abbiamo uno Stato che da una parte con una mano dà e dall'altra con l'altra mano invece si, diciamo, riprende. Allora, il discorso sostanziale è che se a questo noi aggiungiamo il debito pubblico che grava sulle nostre spalle, evidentemente io credo che non possiamo, qui penso di andare controcorrente, ma voglio dire una cosa che personalmente penso. In questa situazione noi non possiamo assolutamente permetterci di andare in una direzione di ritorno al passato. Mi spiego meglio, se pensiamo di fare delle riforme per tornare indietro a livello normativo, credo che questo sia in questa situazione improponibile. La cosa che invece deve avvenire, secondo me, è la consapevolezza, ovvero la presa di conoscenza da parte dei lavoratori, quindi da parte del cittadino, di una situazione pensionistica futura che certamente non sarà quella dei nostri genitori né tantomeno quella di oggi. Perdonami Giuseppe, qua hai detto una cosa, secondo me, di fondamentale importanza e che condivido, condivido pienamente. Quindi sarebbe illusorio pensare, ok, che lo Stato, comunque qualsiasi cassa previdenziale, stia lavorando per tornare quella che era la situazione del passato. Cioè è, diciamo, oggettivamente impensabile che vada in quella direzione. Però credo anche, e noi qua mi sembra abbastanza chiaro e realistico, chiaro, però quello che io percepisco, ed è il punto che poi tu adesso stavi un po' sottolineando, la consapevolezza. Non vedo, ok, un apparato pubblico o di informazione pubblica, ok, che dia queste informazioni alle persone. Quindi, come dire, c'è sempre l'ultima novità dal punto di vista previdenziale, ok, che attira l'attenzione delle persone, però non c'è nulla che crei consapevolezza per dire, signori, mi dispiace, ma dovete cominciare, come dire, a camminare con le vostre gambe, no? Dovrebbe essere un po' così. Esatto. Quindi credo un po' che tutto quello che servirebbe dire, ragazzi di oggi, cioè giovani che sarete pensionati del futuro, cominciate a pensarci a questa cosa qua, no? Perché bisogna essere realisti. Tu che cosa gli consideresti? Ok, è un giovane oggi e quindi un lavoratore che avrà la possibilità di costruire, no? Ancora, no? In termini di tempo per il suo futuro. Allora, sicuramente non è un consiglio, io richiamerei più un diktat. Nella situazione in cui ci troviamo, i giovani non possono pensare alla previdenza complementare come un optional. La previdenza complementare è diventata qualcosa di obbligatorio. Evidentemente obbligatorio per chi consapevolmente si rende conto che se non fa nulla arriverà al momento in cui lascerà il lavoro a non potersi garantire un tenore di vita adeguato. Da questo punto di vista mi sento di suggerire un'altra cosa. Non è altrettanto vero che per integrare la propria pensione futura io debba ricorrere per forza ad una forma di previdenza complementare intesa come fondi pensione. Cioè sto dicendo ai giovani, non importa come pensi di integrare la tua pensione, fallo con un fondo pensione, fallo con una polizza vita, fallo anche con uno strumento finanziario, ma l'importante è che tu sia consapevole che devi iniziare ad accantonare del risparmio che sarà finalizzato alla tua pensione futura. dopodiché la scelta la puoi fare liberamente. Ovviamente sono strade che portano allo stesso obiettivo, l'integrazione, ma strade con caratteristiche diverse. Quindi qui il compito del consulente è proprio quello di cercare di capire in base alla tipologia di cliente che si fa davanti qual è la strada più efficace per quel cliente. Quindi la cosa importante è cominciare e soprattutto cominciare subito. Poi lo strumento da utilizzare ripeto può essere benissimo anche al di fuori di quello che noi intendiamo generalmente per previdenza complementare. Certamente poi quello che dicevi tu è un altro grande problema. Il problema è che dovrebbe essere lo Stato a fare informazione. Dovrebbe essere lo Stato a dare tutte queste informazioni per rendere consapevoli le persone. Lo Stato però non lo fa. Anzi, se noi andiamo a vedere la normativa della previdenza complementare, lo Stato va esattamente nella direzione opposta perché non è pensabile di far decollare la previdenza complementare cercando sempre scorciatoie per anticipare la prestazione, leggi, riscatti, rita e agire solo sulla leva fiscale. Non è questo il modo per incentivare la vera previdenza complementare. Questo è il modo per incentivare un risparmio da parte di persone che non hanno necessità della previdenza complementare. Ti do un dato. Oltre al 40% degli aderenti a fondi pensione, quindi a fondi di previdenza complementare, ha un'età che mediamente va dai 42 ai 55 anni. Questo te la dice lunga perché significa che sono persone che non hanno questo gran bisogno di integrare la pensione perché avrebbero dovuto pensarci prima. Se poi andiamo a vedere i redditi di queste persone, sono redditi medio-alti. Quindi questa forma di normativa sulla previdenza complementare incentiva semplicemente coloro che cercano una via per pagare meno imposte. Ma lascia completamente scoperte quelle persone che invece hanno l'estrema necessità di integrare la propria pensione. Non dimentichiamoci che il mondo del lavoro è cambiato sostanzialmente. Oggi è difficile fare 40 anni di lavoro continuativi. Oggi le persone entrano nel mondo del lavoro intorno ai 30 anni di età, con lavori discontinui e precari. Questo provoca interruzioni di versamenti contributivi che con l'introduzione del sistema contributivo rendono molto penalizzante l'importo futuro della pensione. Per cui non c'è ombra di dubbio, io mi sentirei anche di invertire il concetto della pensione. Cioè mentre noi siamo abituati a pensare che la pensione di base sia quella obbligatoria e quella complementare sia quella integrativa, per effetto del sistema contributivo e di tutto quello che comporta, dobbiamo cominciare a pensare che la pensione di base ce la dobbiamo costruire con la previdenza integrativa. E la previdenza obbligatoria sarà semplicemente un'integrazione alla previdenza integrativa. Il problema rimane la disponibilità finanziaria, quindi la disponibilità delle risorse da parte dei lavoratori. Però anche qui mi permetto di fare una considerazione. Non ho soldi o non ho disponibilità, cozza secondo me, con un dato che ci dice che in Italia si spendono più di 110 miliardi all'anno in giochi d'azzardo, mentre se ne destinano poco più di 16 alla previdenza complementare. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e quel qualcosa che non funziona ancora una volta torniamo alla mancata consapevolezza, alla mancata informazione. Quindi non è che mancano le disponibilità. Manca la vera consapevolezza. Guarda Giuseppe, mentre parlavi poi mi veniva in mente un'altra cosa, proprio in linea con quello che stai dicendo te, che credo sia proprio una descrizione, diciamo, lampante. Cioè chi più ne ha bisogno in realtà non sta facendo nulla, chi sta facendo qualcosa è quello che probabilmente anche non ne avrebbe bisogno, un di più, sicuramente. Però ecco, ricollegando queste considerazioni. Quindi i più giovani che hanno meno reddito, meno continuità lavorativa, è in dubbio oramai il mercato del lavoro è questo, ok? Aggiungo un altro dato. Tendenzialmente erediteranno anche sempre più avanti con l'età, perché se c'è la vita media, quindi quel, diciamo, cuscinetto che era l'eredità di una volta si sposta molto in avanti con l'età. Allora, secondo me, è considerato che comunque il patrimonio degli italiani è un patrimonio importante a livelli di famiglia. Sappiamo che grande parte del patrimonio finanziario è bloccato sui conti correnti, eccetera. A mio avviso potrebbe anche essere questa una considerazione, e correggimi se sbaglio, quella fetta centrale della popolazione, quella che 40, 50, 55 anni che oramai è più stabile lavorativamente, anche più patrimonializzata, ok? Probabilmente potrebbe contribuire alla pensione dei propri figli o addirittura dei propri nipoti, ok? Piuttosto che lasciare un'eredità sempre più avanti nel tempo, piuttosto invece contribuire anno dopo anno e magari poi dare continuità a quello che sarà poi il futuro dei figli stessi, insomma. Potrebbe essere una chiave di lettura. Certamente è una chiave di lettura perché, voglio dire, è vero che si gioca più di 100 miliardi in Italia in tutti questi grattevinci, giochini, eccetera, eccetera. È altrettanto vero che un ragazzo di 25 anni che ha appena iniziato a lavorare, probabilmente tutte queste risorse da destinare alla presidenza complementare o non ce le ha, o giustamente, io dico giustamente, a quell'età preferisce portare la propria ragazza due volte al mese a mangiare al ristorante, piuttosto che godersi le vacanze estive per due settimane. Perché? Perché la pensione è sempre vista come un qualcosa di molto distante. Certo. Mentre la vita che oggi sto facendo è attuale, per cui se permetti mi devo togliere anche delle soddisfazioni. Non mi sembra corretto che io rinuncia a tutto oggi per un qualcosa che forse fra 40 anni mi darà un ritorno. Questo è un aspetto psicologico che incide anche sulla mancata adesione dei giovani. Aggiungo poi un'altra cosa che mi ha reso molto impopolare. Sapete cosa significa far dedurre? Significa pagare meno imposte. Pagare meno imposte si traduce in minore entrate per lo Stato. Perché se io abbasso l'impunibile e pago meno imposte, lo Stato incassa di meno. Allora, se noi pensiamo a cento e più miliardi destinati alla prevenenza complementare ad oggi che sono stati dedotti, con un'aliquota media del 30%, significa, in parole molto povere, anche facendo i conti della serva, che abbiamo qualche decina di miliardi che lo Stato non ha incassato. Ora, se noi togliessimo, e sta qui l'impopolarità, la deduzione alla prevenenza complementare, significa che lo Stato incasserebbe circa una trentina di miliardi in più di imposte. Se avessimo uno Stato efficiente, che non pensa solo all'oggi, ma pensa anche al futuro, questi 30 miliardi potrebbero essere destinati a favore di giovani che iniziano ad aderire alla prevenenza complementare, con una partecipazione da parte dello Stato nei primi anni di adesione. Io credo che questa sarebbe una cosa molto interessante per far decollare la prevenenza complementare non nei confronti di chi vuol pagare meno imposte, ma nei confronti di coloro che ne avranno più bisogno. Bellissimo, sono d'accordissimo Giuseppe, credo che si parla spesso di scivoli, di uscite, cioè mille giochini dal punto di vista previdenziale, probabilmente servirebbe la spinta previdenziale, ecco, se la vogliamo chiamare così. Esatto. Molto molto bene. Quindi Giuseppe ti ringrazio, sei stato sicuramente utile per noi e sicuramente per tutti quelli che ascolteranno ovviamente il nostro colloquio. Possiamo dire sicuramente e quindi consiglio per i giovani del futuro, pensateci oggi, una buona pianificazione, programmazione patrimoniale e previdenziale sicuramente fa bene a oggi, ma soprattutto fa bene al futuro. Certo. Ti ringrazio ancora Giuseppe, è stato un piacere, magari avremo modo di vederci in altre occasioni. Grazie mille ancora e grazie a tutti. Grazie a voi. Che ci ascoltano. Grazie. Grazie a tutti.